nuovi scenari tecnologici e system integrator che cosa cambia che cosa è cambiato e quali sono le prospettive ne parliamo con riccardo fiano che è sales manager di partec al quale chiediamo quanto ritenete che sia strategico il ruolo del sistema integrator nelle scelte della performazione digitale delle aziende clienti l'integratore è un soggetto fondamentale nelle scelte che adottano i nostri clienti abbiamo il compito di rimanere sempre un passo avanti rispetto ai nostri clienti e non è solamente una questione tecnologica ma una questione di processo e di un lungo lavoro che di evangelizzazione che sempre svolgiamo presso i nostri clienti basti pensare ad esempio a tutto il lavoro che è stato portato avanti per semplificare con i clienti il processo di adozione del cloud computing o delle tecnologie devops delle modellologie devops che aiutano i clienti i nostri clienti a ridurre al minimo tutti i cicli di produzione delle applicazioni e diciamo di 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 ammodernamento dei data center e questo lavoro di evangelizzazione che portiamo avanti è importante anche quando si lavora con clienti molto smart clienti molto illuminati perché è fondamentale aiutarli a tracciare delle traiettorie evolutive che debbano portare dei benefici sia a breve che a lungo termine che siano percepibili da tutta l'azienda e questo ci porta a essere di mediatori un punto di riferimento complessivo per tutte le strutture dell'azienda cliente perché interagiamo col marketing con l'ingegneria con le funzioni di esercizio ciascuno di loro al proprio lessico alle proprie esigenze le proprie tipicità e noi siamo un punto di raccordo il sistema integratore è un punto di raccordo fra tutte queste funzioni dei clienti e riduciamo tutti gli attriti nel corso del percorso di di trasformazione di adottamento e di adozione delle tecnologie quindi diventiamo un punto di riferimento trasversale per tutti gli interlocutori coinvolti anche prima che il progetto prende forma soprattutto prima che il progetto prende forma nelle scelte tecnologiche. Nello scenario post pandemia molti paradigmi in cui eravamo abituati sono destinati a cambiare alcuni stanno anche già cambiando come il caso del lavoro ibrido per esempio e come pensate che i sistemi integratori siano in grado di assistere meglio le imprese in questo nuovo scenario? La prima cosa che mi viene da citare è una piccola barzelletta che è girata nel corso del periodo della pandemia che chiedeva qual è stato il driver principale della digitalizzazione del tuo business. Una era il CIO, il CTO e il Covid-19 e questa piccola diciamo battuta spiega diciamo quello che poi è avvenuto che la pandemia ha accelerato un percorso di cambiamento che in alcuni casi era già in atto da parte di aziende clienti ma in molti casi appunto ha spinto e accelerato e ha forzato molte aziende a intraprendere e completare questo percorso vincendo anche le resistenze dei più tradizionalisti quindi diciamo la tecnologia ed in particolare il cloud e il DevOps come abbiamo detto prima diciamo per andare verso una transizione di modelli organizzativi più snelli più ibridi e distribuiti. Questo è un tipo di lavoro che con i nostri competence center già da tempo abbiamo avviato abituando i nostri clienti a lavorare con un team altamente concentrato diciamo con delle specializzazioni altamente concentrate e quindi in modo che queste verticali queste competenze verticali permettessero ai nostri clienti di interagire avere sempre a disposizione un team fondamentalmente diciamo di dimensione infinita diciamo quindi passando da un puro eh servizio che in genere era sempre visto come un presidio comunque di di un'attività prettamente legata a un essere umano a una risorsa specifica all'interazione con gruppo in modalità ibrida e quindi anche i più come dire resistenti più i più tenaci avevano capito che questo approccio consentiva di accedere a un pulle di risorse e un gruppo di competenza più ampio con tempi rapidi a costi inferiori perché questo è un tipo di servizio molto importante da erogare verso i clienti e per garantire un punto di contatto con dei livelli di servizio stringenti è una scena contro doom che offre un servizio remoto di prima e di secondo livello altamente specializzato questo è un servizio che al diciamo clienti prestigiosissimi dal telco al finance al settore assicurativo alla pubblica amministrazione ai modi e trasporti in tutti i settori industriali è stato largamente adottato e la pandemia ha contribuito affinché questo tipo di modello sia ormai il modello assolutamente più preponderante. Con quale modalità un sistema integrato riesce ad affiancarsi alle offerte di diversi vendor? Il sistema integrato ha un ruolo fondamentale per valorizzare e diciamo collocare le tecnologie dei vendor nei contesti dei clienti, dei nostri clienti perché diciamo facciamo un lavoro di brokeraggio molto importante per poter lanciare e traghettare queste tecnologie all'interno delle realtà dei nostri clienti che ovviamente conosciamo meglio di quello che non possono conoscere dei produttori stessi. Quindi copriamo quell'ultimo miglio che riesce a collocare le tecnologie da un punto di vista di best practice e di reference architecture diciamo ipotizzate dai vendor dentro a un contesto reale della realtà del cliente. Quindi il sistema integrato ha il compito non facile di conoscere e interpretare le esigenze dei nostri clienti, capire quali sono le tecnologie di riferimento e calarle nel complesso insieme di requisiti che il cliente impone. Spesso questo ci porta ad avere anche delle diciamo delle architetture che originariamente il vendor poteva non aver pensato come soluzione adeguata per un cliente e che poi appunto con il nostro lavoro di declinazione di questa soluzione in un contesto può generare anche quella che tecnicamente è una support exception ad esempio e quindi la possibilità che il vendor supporti o riconosca che una determinata implementazione presso un cliente è qualcosa che porta valore e la valorizzazione di una tecnologia all'interno di un contesto. Una parte importantissima del nostro lavoro è dedicata al trasferimento delle competenze che poi abiliteranno le strutture tecniche del cliente a gestire e fare evolvere delle piattaforme in totale autonomia. Quello dell'insourcing di competenze e dell'empowerment dei nostri clienti è uno dei capisaldi della filosofia open source, filosofia che da sempre abbiamo promosso sin dall'anno della nostra fondazione. Ringraziamo quindi Riccardo Affiano di Partec per questi interessanti spunti sul godo del sistema integrato e alla prossima occasione. Grazie a voi.